DIVISO 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 Oh, guarda chi c'è sta... Ciao, Martino, dove vai? Ciao, Martino... Ciao, eh... Allora... Vieni, qui, dove stai andando? Lo sai che io e te ci abbiamo un corso speso, eh? Dammi stai vedere, lo sai? Dai, la testa qua... Dai, la... Dai, eh... Dai, aiutare... Dai, alzate, eh... Guarda che ci rivediamo tanto, eh... Continua a riprendere... È proprio uno sfigato... Inferno Cox